Questa è Bois de Bologna, con il laghetto e qui sulla destra abbiamo il Trocadero da dove si gode la più bella vista di Parigi e della Tour Eiffel che si vede da un fondo e qui sulla nostra sinistra la Tour Eiffel la Tour Eiffel davanti a noi a destra la Senna, a sinistra la Senna Ed è da qui che parte di sulla destra il famoso giro col battello il Bateau Mouche di Parigi e qui sulla destra abbiamo l'Esplanade des Invalides in fondo abbiamo proprio l'Hôtel des Invalides ed ecco qui sulla destra il famoso Bateau Mouche devo dire che non è uno dei battelli più belli comunque e questo invece è il Louvre il famosissimo Louvre di Parigi e questo è il quartiere della Défense